Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi parliamo di Sumeri e Babilonesi. Prima di vedere questo video ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace di supporto. La mezzaluna fertile è una zona compresa tra la Mesopotamia, l'Egitto e l'attuale Turchia. Forma un arco a forma di mezzaluna, detta per l'appunto fertile perché adatta all'agricoltura. La Mesopotamia è la terra tra i due fiumi e i due fiumi sono il Tigri e l'Eufrate. Dato che la pianura era soggetta a inondazioni, i primi insediamenti nascono sulle alture. Con la crescita demografica abbiamo però poi un popolamento della pianura e le esondazioni vengono contenute. grazie ad opere idriche come per esempio i canali, le dighe e gli argini. In Mesopotamia sono presenti diversi ceppi linguistici, come quello semita e quello indoeuropeo. È importante dirlo per comprendere i popoli che troveremo in Mesopotamia. I semiti sono tutti i popoli collegati al ceppo linguistico semitico, per esempio gli arabi, gli ebrei, i cananeo-fenici. I semiti discendono da Sem, che è uno dei figli di Noè. Gli indoeuropei invece sono i popoli che hanno in comune il ceppo linguistico proto-indoeuropeo. Per esempio l'italiano, il francese e lo spagnolo sono tutte lingue che derivano dall'indo-europeo. Vediamo qui una suddivisione tra semiti e indoeuropei. Abbiamo fatto questa suddivisione per comprendere meglio quali sono le popolazioni che vedremo insieme. Noi parleremo degli Accadi, dei Babilonesi e degli Assiri, che fanno parte del ceppo linguistico semitico. E poi vedremo anche gli indoeuropei. In particolare ci soffermeremo sugli Ittiti in un altro video. Iniziamo dai Sumeri. I Sumeri sono una delle popolazioni della Mesopotamia meridionale. Non si conoscono le loro origini e questo riguarda molti popoli della Mesopotamia, anche se ovviamente gli studiosi azzardano le loro teorie. In realtà non azzardano perché studiano e cercano di ricostruire in modo molto scientifico e attendibile. Infatti gli studiosi pensano che probabilmente i Sumeri provengano dai monti Zagros, una catena montuosa molto estesa tra Iran e Iraq. Per quanto riguarda la storia dei Sumeri, diciamo che l'apice di questa civiltà lo abbiamo nel 3500 a.C. Nel 2360 a.C. abbiamo la conquista della Mesopotamia ad opera del re Accado Sargo. Nel 2120 a.C. una rinascita neosumerica. E nel 1950 a.C. abbiamo il termine della dinastia. Come vedete c'è un momento molto positivo, quindi di apice, un momento invece di conquista della Mesopotamia e quindi anche i Sumeri vedono la dominazione degli Accadi e poi una rinascita neosumerica, quindi una nuova rinascita ma poi la dinastia ha comunque fine. Le città più importanti per quanto riguarda l'impero dei Sumeri sono Lagash, Ur e Uruk. In realtà ci sono anche altre città ma abbiamo menzionato solo queste che sono le più significative. Non si sa bene da cosa derivi la parola Sumero ma probabilmente è dal nome babilonese Schumer che dovrebbe indicare la regione in cui si sono insediati. In realtà i Sumeri non si chiamavano Sumeri ma si chiamavano Teste Nere, Sag-G. Le città dei Sumeri sono delle città-stato, quindi che cosa vuol dire? Che ogni città è indipendente e governata da un re che viene poi aiutato dai sacerdoti. Le città vengono anche circondate da mura di difesa che sono realizzate in argilla pressata ed essiccata al sole. Al centro delle città sono presenti le Zikurat che sono delle piramidi però a gradoni. Custodiscono la statua del dio protettore della città che, in cambio di sacrifici, garantisce loro protezione e buoni raccolti. Inoltre le Zikurat sono dei veri e propri centri amministrativi. Il re amministra la giustizia però all'interno anche delle Zikurat abbiamo dei reparti dedicati alle scorte di cibo. Sicuramente le Zikurat vi ricordano le piramidi. Dal punto di vista architettonico le Zikurat sono veramente affascinanti. presentano una scala che conduce fino al cielo, fatti i sumeri amavano molto osservare le stelle. La sommità della Zikurat era infatti utilizzata dai sacerdoti come un osservatorio astronomico. Come abbiamo detto, sempre sulla sommità si trovava il santuario. Invece ai piani inferiori le abitazioni dei sacerdoti e i magazzini dove poterono esserci anche le scorte di cibo. Nel 3000 a.C. i sumeri scoprono la scrittura e con il 3000 a.C. abbiamo l'inizio della storia. Sono infatti i sacerdoti a inventarla per tenere inizialmente il conto delle provviste conservate nei templi. I sacerdoti tracciano su delle tavole d'argilla dei segni in corrispondenza proprio dei sacchi di cereali conservati. La scrittura dei sumeri è detta pittografica perché i segni grafici rappresentano degli oggetti e delle azioni. Vedremo poi più avanti anche i geroglifici degli egizi. La scrittura inoltre è detta cuneiforme perché i sumeri scrivono su delle tavolette d'argilla con un bastoncino. Questo bastoncino si imprime e lascia dei segni, dei segni a forma di piccoli cunei. Con la nascita della scrittura si sviluppa e si valorizza la figura dello scriba. Lo scriba si occupa dei tributi, delle tasse, stende i decreti regi e misura le terre. Qui vedete una mappa per quanto riguarda i sumeri che rappresenta e riassume quello che abbiamo detto. Anche se non in tutte le scuole si fa epica, voglio citarvi l'epopea di Gilgamesh perché a mio parere è un testo fondamentale per la vostra cultura personale. È un poema epico del terzo millennio ed è scritto proprio in scrittura cuneiforme. Ci racconta le gesta di Gilgamesh che è un re sumero, re di Uruk, nipote di Emmerkar, il fondatore di Uruk e figlio di Lugalbanda. Gilgamesh è colui che vede ogni cosa, colui che apprende ed è saggio in tutte le cose. Gilgamesh è un re che compie diverse imprese che vengono definite fatiche. Il suo obiettivo è quello di scoprire il segreto dell'immortalità. Quando parlo di fatiche sicuramente vi ricorderete di Ercole. Nonostante però superi tutte le prove e quindi riesca a conquistare la pianta del ringiovinimento, quando si tuffa in uno specchio d'acqua un serpente in fido gliela ruba. Questo ci insegna qualcosa, che gli uomini sono uomini e devono restare umani e che le leggi divine sono inviolabili. Non bisogna spingersi troppo oltre. Questo ce lo ricorda anche Ulisse nel ventiseiesimo canto dell'Inferno. Nel 2360 Sargon, re degli Accadi, conquista la Mesopotamia. Governerà a 56 anni, ma dopo la sua morte il regno si franzumerà. Attorno al 2000 a.C. la Mesopotamia sarà poi conquistata dagli Amorrei, una popolazione semitica che fonda il regno di Babilonia. Babilonia si trova sulle Eufrate e il nome probabilmente significa originariamente porta del Dio. Questa è una curiosità che, però, è molto interessante. Il nome Babilonia è considerato di fatto un sinonimo di Babele. Nella Bibbia si racconta la costruzione di questa torre altissima, la torre di Babele, che però sfida il volere di Dio. Infatti, per punire i costruttori, Dio confonde le lingue e le idee. Parla anche della torre di Babele, il nostro Dante, nel De Vulgari Eloquenzia. Il più importante re di Babilonia è Amurabi, che tutti ricordiamo per il codice di Amurabi, una stele in pietre su cui sono riportate 282 sentenze, che sono il modello per i giudici del regno. Amurabi regna dal 1792 al 1750 a.C. La legge del taglione, famosissima, occhio per occhio, dente per dente. La vittima ha il diritto di infliggere al colpevole lo stesso danno che subisce. Era prevista anche una ricompensa rispetto alla parte lesa per quanto riguarda il colpevole, in realtà spesso con somme d'argento. Le pene sono diverse a seconda del gruppo sociale, quindi nella società babilonese gli uomini non sono tutti uguali. Se ben ricordate, abbiamo detto che la nascita della disuguaglianza e delle gerarchie sociali la possiamo trovare già dal Neolitico. Se non avete visto il mio video sul Neolitico, ve lo lascio qui sopra. Il codice di Amurabi, nonostante sia famoso per la legge del taglione, in realtà è molto importante perché ha tentato di sostituire proprio la legge del taglione con norme più civili. Infatti erano previste, per esempio, anche ricompense in denaro per cercare di tutelare la parte lesa. Dal 605 al 562 a.C. la civiltà babilonese vive un nuovo momento di splendore con Nabucco Donosor II. Con la fine del dominio degli Assiri, l'impero si estenderà, arrivando a conquistare la Palestina. E sotto la guida di Nabucco Donosor, i babilonesi deportano in Mesopotamia il popolo ebraico. E' Nabucco Donosor che vuole la costruzione nel 590 a.C. dei giardini pensili, dei giardini meravigliosi, una delle sette meraviglie del mondo. Secondo la tradizione, probabilmente sono stati voluti dalla regina Semiramide, una regina assira, che poteva trovare delle rose fresche tutti i giorni in questi giardini. Vi lascio qui una parte di una ricostruzione dei giardini di Babilonia fatta da Flipped Prof, che mi è piaciuta tantissimo. I babilonesi sono molto importanti per le loro conoscenze matematiche e astronomiche. Usavano figure trapezoidali per determinare la posizione dei pianeti nel cielo e avevano anche una buona conoscenza della geometria. Il loro sistema matematico non era in base 10 come il nostro, ma in base 60. Vuol dire che noi dobbiamo ai babilonesi, tramite proprio il loro sistema sessagesimale, il computo delle ore dell'orologio o i 360 gradi del cerchio. Sembra che i babilonesi siano i primi a documentare un'eclissi totale. Venivano considerate le eclissi dei presagi nefasti. Anche qui vi lascio una mappa, sempre offerta da mappe per la scuola, dei babilonesi che può aiutare chi ha una memoria visiva a focalizzare meglio ciò di cui abbiamo parlato finora. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di continuare a studiare perché le video lezioni durano tutto l'anno. Grazie a tutti.